Musica Grazie a tutti. Grazie. 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 Ja, es ist auch für euch soweit die Aufstellung zu eurer ersten Pinarzeit. Grazie. Drei, vier, fertig, salt, salt und los. Grazie. 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 A te la Tanschule, perché tante molto spazio, perché mi metà molti l'amore, molto belle, i tanti i tanti. Perché la Tanschule è veramente la grande leidazione e perché è sempre bello. E perché è in una seconda vita, man fühlti a tutti i più. È quasi un po' di lungo. È una piacera modi e la troppo. Ci sono tutti proprio attraverso. Ci sono tutti assai molto bene e abbiamo sempre più di tanti. Ci sono tutti assai molto attraverso il nostro training. Ci hanno un Stefano come al Trainer, perché è anche molto spazio con lui che fa e poi pensiamo che ci sono una buona scuola sono in una scuola perché è così come la mia città c'è un po' di spaz e ho conosciuto molto amico e per me è una scuola come una famiglia e la città di tutti i ragazzi e le tante la chanee ha un po' No, questa è la nostra filmameista Se ci qualcosa ci ci faccio o ci faccio con filmi o ci faccio con filmi Mi sono un schlupo E' un schlupo E' un po' di più 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 Ciao e questo è davvero molto piaciuto e questo è davvero molto piaciuto quando non c'è qualcosa di più, viene da Marco e dice noi possiamo fare questo! Anna stai sempre tre anni standard latein Kindertanz SCN e ora anche in Corsion 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 ma sempre Corsion Anna è il nostro genitore Corsion Scorsion 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 Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti 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 Grazie a tutti